Bentornati, sono ma un mazzo, bentornati nella rubrica fumetti, bentornati nella rubrica Samuel Stern. Continuiamo a parlare dell'indagatore, no, del libraio di Edimburgo e oggi parliamo del numero 39, Una prigione di carne, numero che lo sapete, se non arrivo subito a leggere è perché non l'ho trovato subito in edicola, sono andato nella mia seconda edicola di fiducia, io cerco sempre di rispettare appunto il discorso di prendere il fumetto nella stessa edicola, però quando non lo trovo, dopo una settimana, vado un attimino a ricercarlo, in questo caso l'ho trovato nella mia seconda edicola di fiducia, che è quella che, dove appunto riesco a fare anche le storie su Instagram in cui vi mostro che l'ho acquistato. Una prigione di carne, numero 39, vi faccio vedere la copertina molto 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 simile al numero 26, Il figlio e il prodigo, ovviamente non è un errore, non è un rifuso, non è casuale, anzi è stata voluta proprio questa copertina dallo stesso editore, da Fumasoli, per far capire meglio che si sta trattando di un sequel, un sequel del figlio e il prodigo, anche quello scritto sempre da Fumasoli in persona, ovvero senza gli altri due membri del triunvirato, Filadoro e Savegnago, quindi era scritto di suo pugno totalmente Gianmarco Fumasoli. Sappiamo anche, sempre da Fumasoli, che questo è il secondo numero di una trilogia totale, e devo dire che sono felice di averlo saputo perché ho voglia di vederne ancora, ho voglia di saperne di più di questa saga all'interno dell'universo sterniano. Non è la prima volta che in Samuel Stern vediamo un sequel di un numero di qualche tempo addietro, lo abbiamo visto per esempio il mese scorso con la chiave dell'abisso, che era il sequel dell'abisso appunto. nessuna relazione con il personaggio di The Boys. Devo dire che ho apprezzato molto di più la scelta di dare una copertina uguale, proprio perché a colpo d'occhio si capisce subito il seguito diretto di questa storia, quindi così consiglio mio, se vi ricapita di fare dei sequel, mi piace di più questa scelta, che non questa, che invece è un po' diversa tra... c'è un po' di differenza appunto, anche se comunque c'è una continuità, ma non a colpo d'occhio. La continuità sta nel fatto che qui Samuel era immerso fino a metà corpo nella pozza, qua invece è praticamente totalmente immerso, quindi ha anche un suo senso, però effettivamente a colpo d'occhio questo richiama molto di più. Ma bando le ciance parliamo della storia in sé, e anche dei disegni. I disegni mi sono piaciuti molto, ci ho anche fatto una storia carina su Instagram, sono di Daniele Miano, o Miano, o Miano, no Miano non credo, e mi sono piaciuti soprattutto i primi piani, mi sono piaciuti i volti, l'espressività dei protagonisti, soprattutto di Samuel, anche se in alcuni primi piani magari Samuel non sembra proprio fedele a se stesso, magari rispetto ad altre tavole, però in generale mi è piaciuta molto l'espressione che ha dato a questi personaggi, anche perché questa è una storia che si prende il suo tempo, ha un'introduzione molto impaccata, in cui vediamo effettivamente una conversazione tra Angus, tra Duncan e Samuel, mi piace quando ci sono tutti e tre assieme, non è una cosa che capita spesso, e quando capita mi piace molto, anche perché hanno un rapporto rispettoso, un rapporto bello da vedere, per esempio diametralmente opposto al rapporto che possono avere Groucho e Block, che non si sopportano, a parte che nessuno sopporta Groucho, ma questo è un altro discorso, mentre Angus che è un po' il Groucho tra tutti e tre, perché è molto originale come persona, mentre Duncan che è un po' il Block di tutti e tre, perché è quello che è un po' più il padre burbero del protagonista, riescono comunque ad andare molto d'accordo, anche se hanno delle vedute molto differenti, e questa cosa mi è piaciuta molto. Comunque dicevo, è un intro che si prende il suo tempo, c'è questa conversazione tra i nostri tre protagonisti, si vede anche il viaggio on the road, si vede l'arrivo molto lentamente in questa comunità, in questa comunità anglicana particolare, in uno dei tantissimi rami religiosi della religione protestante, e poi veniamo praticamente introdotti nella radice, diciamo, del problema, a pagina 2026, e questa cosa, questa introduzione molto lenta, mi ha spiazzato, e mi è piaciuta molto, a differenza magari io ho detto, ho detto nel primo numero di Calia, un'introduzione lenta, non l'avevo apprezzata più di tanto, qua invece, questo viaggio molto tranquillo, nella, in questa avventura sterniana, l'ho apprezzata davvero molto, e devo dire che l'ho apprezzato, in generale questo numero, una prigione di carne, molto di più del figlio il prodigo, che proprio perché appunto, cambiava un po' le carte in tavola, quindi era il primo numero, che cambiava un po' le carte in tavola, quindi dava dei colpi di scena, però allo stesso tempo, non ci dava totalmente tutta la soluzione, quindi lanciava un po' il sasso, ma nascondeva la mano, qua invece già si sta esplorando un po' di più, si sta capendo un po' di più di cosa è successo, anche rispetto a, alla storia del figlio il prodigo, e quello che si è scoperto è davvero mozzafiato, parlo ancora un secondo dei disegni, ecco questa tavola non l'ho apprezzata tantissimo, sicuramente non sarò l'unico a dirlo, però ci tengo a dare una motivazione, perché appunto, le persone in questo campo medio, sono solo accennate, sono quasi degli schizzi, dei bozzetti, mentre qua vediamo i nostri protagonisti, ben ben definiti, ora io so che è voluta la cosa, cioè so che è voluta, proprio perché il nostro occhio deve cadere sui protagonisti, che fondamentalmente sono qua, in questo puntino di storia, e questa è una specie di zoomata, che ci mostra dove sono, e ce li mostra per bene, mentre qua è semplicemente un campo medio, per farci respirare l'aria, che i nostri protagonisti stanno vivendo, quindi non è importante vedere il dettaglio dei volti dei paesani, è importante vedere un discorso d'insieme, quindi io questa cosa la so, però non credo siamo ancora pronti, io credo che siamo, soprattutto in Edicola, credo che il lettore d'Edicola abbia bisogno ancora di una certa, di un certo tratto un po', come dire, preciso tra virgolette anche in queste scelte, mentre ho apprezzato tantissimo invece i disegni dei flashback, che sono spettacolari, hanno un gioco di luci e ombre quasi pittorico, questa tavola non ve la faccio vedere perché è troppo spoiler, no niente, vi coccate solo questa e basta, solo questa tavola qui, so che siamo ben oltre il tempo dello spoiler, però preferisco non farlo per sicurezza, anche perché adesso lo farò nella storia. La storia appunto vede coinvolgere un vecchio amico di Angus, che per qualche strana ragione Angus, che mi sembra un uomo tra virgolette agnostico, ateo comunque, che non segue i canoni della religione di Duncan, mi sembra anche, forse meno spirituale, di Samuel, ha una spiritualità sua, cerca di fare la sua parte, lo vediamo anche nei racconti del Daryling, che cerca in qualche modo, in un modo molto particolare, di esorcizzare le persone che vuole aiutare. E qua lo vediamo svolgere un ruolo molto ambiguo fino alla fine, ma devo dire che anche con il plot twist finale, che un attimino scagiona Angus, non lo so, non sono del tutto sicuro della sua, di quello che ha in testa, di quello che passa nella testa di Angus. Secondo me Angus, è comunque, ci sta nascondendo comunque qualcosa, al di là che la persona con cui pensava di parlare, non era davvero quella persona, però non mi fido più di Angus come prima, ecco, questo numero è un po' uno spartiacque, sulla fiducia di Angus Daryling, a prescindere appunto dal finale. Si sono anche un pochino scavate, le dinamiche di amicizia, di rapporto diciamo, anche lavorativo, chiamiamolo così, tra Duncan e Samuel. Ogni volta che Fumasoli prende in mano la testata, ha modo di mettere un punto su come si sta evolvendo il loro rapporto, che ormai è molto incrinato dopo Abisco, e appunto pare che padre Duncan stia facendo una sua guerra, una sua battaglia, perché giustamente lui ha un solo modo di vedere questa battaglia, che è quello che gli impone la sua fede, il suo credo religioso, mentre Samuel Stern e anche Angus possono essere molto più flessibili, molto più duttili. La scelta stessa di cui si parla in questo numero, mi pare di capire che possa essere proprio una scelta su quale parte Samuel debba, diciamo, difendere, proprio perché lo abbiamo visto anche nei numeri scorsi, i demoni stessi hanno diverse fazioni, l'informe stesso e gli Eresiarchi sono in lotta, Samuel Stern se si mette dalla parte degli Eresiarchi per scacciare l'informe, comunque sta aiutando dei demoni, se si mette dalla parte dell'informe per scacciare gli Eresiarchi, farli portare tutti in legione, in un certo senso comunque si mette dalla parte dell'informe, insomma non se ne esce, allo stesso tempo abbiamo gli angeli che sono dittatoriali nel loro bigottismo e quindi non lasciano molto spazio alla pietà che dovrebbe essere tipica di un angelo o comunque di uno che ha un insegnamento cristiano e quindi vediamo Samuel in un certo senso o di qua o di là dalla parte dei demoni, vedremo Samuel dalla parte dei demoni, penso anche Angus, magari non dallo stesso lato preciso di Samuel ma sicuramente anche lui avrà la stessa flessibilità che ha Samuel, mentre Padre Duncan qualunque cosa succeda lui starà sempre dalla parte degli angeli, starà sempre contro i demoni, non gli importa che gli Eresiarchi e l'informe abbiano una loro lotta interna, lui non si alleerebbe con nessuno dei due e vorrebbe scacciare entrambi ovviamente. Nonostante abbiamo visto bene in passato che questi angeli non hanno proprio un aspetto angelico, io non vedo l'ora di scoprire l'origine di tutto questo, so che Fumasoli e Filadoro e Saveniago la sanno, di sicuro sanno, sanno perché hanno fatto questo, sanno perché gli angeli hanno questo aspetto, sicuramente c'è qualcosa sotto, spero che prima o poi ce lo dicano, magari nel numero 100 chi lo sa, ma spero che questi nodi verranno a galla, ma quando verranno a galla molto probabilmente Padre Duncan perderà la fede. Ora devo fare per forza un pochino di spoiler, quindi se non volete sentire spoiler non proseguite, parlerò ancora un attimo di alcune cose, alcuni personaggi come sono disegnati e di preciso di alcune cose che accadono nella storia. Partiamo con il colpo di scena che c'è nella splash page centrale come un playboy perversissimo, vediamo questa sorta di demone che appunto ha posseduto totalmente, un demone passato attraverso Abisco, che ha posseduto totalmente quello che presumo fosse il cadavere di uno dei soldati di Singularity, e che lo ha fatto camminare senza meta fino a che non ha trovato questa comunità. Questo demone si è evoluto, assorbendo probabilmente gli esseri umani attorno a lui, per cercare di creare quello che per lui è una sorta di religione, ovvero lui vuole riformare legione, perché lui è uscito e scappato da legione, ma conosce solo legione, e di conseguenza ha cercato di creare, di fare copia e incolla della sua comfort zone qui sulla terra, e lo ha fatto con la scusa di questo credo religioso, di questa comunità, e quindi ha un po' mischiato le cose, tant'è che Padre Duncan gli dà del blasfemo proprio per questo, proprio perché associa legioni a una comunità religiosa. In questa fantastica splash page, che grazie me la sognerò per una settimana intera, perché io odio il body horror, e qua è praticamente un omaggio a Carpenter, e quindi è stato davvero disgustoso vedere tutto ciò, molto molto bello comunque l'effetto. Questa sorta di demone, che non so neanche se definirlo, non è un incarnato, è qualcosa di nuovo, è sicuramente un demone che ha preso totalmente possesso del corpo umano, non è ancora uscito dal corpo umano, ma il corpo umano credo fosse anche morto, e come ha detto il demone stesso, non ci sono più regole, questo permette molta più libertà agli autori, per andare avanti con questa mitologia sterniana. Fondamentalmente tutti i personaggi che abbiamo visto, che abbiamo visto vomitare questa sorta di venom demoniaco, con della specie di crisi epilettiche, che hanno portato appunto il rigetto di questa sostanza, altri non erano che delle fotocopie delle persone del villaggio, le persone reali del villaggio, le stava assorbendo questo demone. Non ce lo hanno detto esplicitamente, ma se abbiamo visto anche i bambini reagire così, con questo vomito nero demoniaco, misto a crisi epilettiche, molto probabilmente questo demone si è occupato anche dei bambini, questo demone ha assorbito anche i bambini. E' molto interessante che, non so se è voluta questa cosa, che il bambino abbia avuto questa forte reazione quando si è avvicinato a padre Duncan, quindi al prete cattolico. Non so se appunto è una scelta voluta per far vedere che appunto un demone non riesce a stare troppo vicino a un religioso. Non lo so, potrebbe essere una mia interpretazione. Però appunto mi sono piaciute queste crisi e chiaramente significa che quasi tutto il villaggio, se non tutto il villaggio, è stato praticamente assorbito. Appunto poi con il plot twist finale, dove il capo di questa comune, di questa setta, si è reso conto di non essere se stesso, ma di essere un clone, uso termini da uomo ragno, no? Si è accorto di essere un clone, di essere un clone malvagio che va contro al suo credo. Ciononostante ha ancora i ricordi del se stesso reale, allora ha deciso di sacrificarsi, di bruciare tutto e di uccidere questa uscenità, questa mostruosità. E devo dire che questo finale mi è piaciuto molto. Allora, io non amo in realtà molto questi tipi di racconti in cui, non voglio usare un termine tecnico, vediamo se riesco, in cui il personaggio che fa ingaggiare tutto alla fine ci sta dicendo delle gran puttanate, cioè in questo caso l'amico di Angus non è davvero l'amico di Angus e lo scopriamo alla fine. Solitamente a me non piacciono questi escamotage, ma è stato gestito molto bene, cioè è stato gestito molto bene. Quello che ci hanno mostrato è talmente bello che chi se ne frega, va bene tutto. mi è piaciuto comunque anche il fatto che fondamentalmente non lo abbiamo visto, questo personaggio non era davvero lui dall'inizio alla fine. Una cosa che non mi piace molto, ma la storia è così bella che vale via il culo, chi se ne frega, va bene così. Fatemi sapere voi cosa ve ne è parso di questa storia, se avete hype per la prossima storia, chissà quando sarà, vediamo se avrà un senso logico la pubblicazione o sarà casuale. Il primo numero era il 26, il secondo numero era il 39, quindi 13 numeri dopo. Mi aspetto che sarà il numero all'ora 40, 40, scusate, 40, 50, 52, attorno al 52 magari potremo vedere la conclusione, oppure prima, oppure dopo, chi lo sa. Qua sotto scrivete voi, facciamo un giochino, facciamo un toto pronostico quando uscirà la terza storia di questa trilogia. Noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.